Ma no, non c'è bisogno. Vai Fabio, cosa facciamo in questo video? Ma cerchiamo di simulare quello che in gran parte hanno fatto i grandi stuntman del cinema italiano. Ossia fingere una caduta in un'azione in cui qualcuno ci trasmette uno spazio. Ok, chi ci aiuterà in questo progetto? Chi ci aiuterà? Il mio titolare, Fabrizio Noi Russo. Non sono Noi Russo, sei di nome o di fatto? Ah Fabio, vetti là, vetti sparare. Eh Fabio, vetti, mi fa... Simo, mi devi dare a te, mi devi dare a te, mi devi dare a te, mi devi dare a te. Mirka, no no no, vedi? Magari se ci metti un attimo schiavone al volo per... Eh io, io non lo so, ma mi fa come fare vita a questo, però sinceramente io penso che a me non mi sai invitare ancora a questo. E di Fabio, ma dove ci sentite? Fabio, ma non lo fa pure dopo. Ehi, come? Dici, va bene, conferma, ma non lo piso, non lo piso, non lo piso. Fabio, a lui, a lui conferma, ma ha detto un rito a me. Ancora, questi due. Che? Che ci fa stato, gazzu, ma lei è pure. Ah! 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 Ah!